Anche oggi qui a Treia, al seminario di Stimbola, abbiamo ribadito un punto centrale, serve un nuovo racconto sull'Italia, serve un racconto sulle potenzialità del nostro paese, sui suoi punti di forza e non soltanto sulle sue contraddizioni. Nella transizione ecologica verso la sostenibilità, nella transizione energetica, l'Italia gioca un ruolo importante e fondamentale, purché abbia chiaro il senso della propria identità. L'Italia che fa l'Italia è un'Italia del futuro.